Ciao a tutti ragazzi, questo è Verzella Ecom, io sono Andrea, nel video di oggi andiamo a parlare dei 9 miti principali del dropshipping. Sono molte persone che ne parlano in un certo modo, che pensano a alcune cose che non sono vere, quindi andremo a sfatare questi miti. Quindi ti consiglio di guardare il video fino alla fine. Non ti faccio perdere l'altro tempo, lascia un bel mi piace, un commento e iscriviti al canale. Ok, ci siamo, il primo mito è diventare ricchi velocemente. Cosa vuol dire? Le persone pensano che iniziando il dropshipping si faranno subito soldi stravelocemente, non è assolutamente così. Quindi il dropshipping è stato, lo è e sarà sempre un modello di business molto serio, in cui non è così facile, non è facile per niente riuscire a diventare ricchi e sicuramente non si diventa ricchi velocemente. C'è un processo vero e proprio in cui uno costruisce il proprio business, come fosse proprio un negozio fisico, quindi sicuramente non è una cosa che ti renderà ricco velocemente. Sono molte persone che si approcciano a questo modello di business, che pensano che basti semplicemente creare un sito, fare una sponsorizzazione senza neanche sapere come si fa e si diventa ricchi velocemente. Non è assolutamente così, c'è un lavoro dietro, c'è tantissimo lavoro dietro e quindi non si diventa ricchi velocemente. Si può diventare ricchi, assolutamente sì, però non velocemente come la gente pensa. Mito numero due. Molte persone pensano che nel dropshipping si deve per forza spedire i prodotti dalla Cina. Non è assolutamente così, quello che faccio fare i miei studenti, quello che faccio io e quello che fanno i miei clienti è semplicemente trovare e andare a sponsorizzare in un singolo stato, come può essere l'America. Per me il paese principale è l'America, il miglior mercato rimane sempre l'America. Quindi quello che andremo a fare è semplicemente trovare dei fornitori sul luogo e lavorare con loro. Quindi andiamo a sfatare questa cosa che il dropshipping bisogna fare la Cina, perché non è assolutamente così. Poi si può dropshippare dalla Cina, però quello che faccio io, quello che faccio fare i miei studenti appunto è dropshippare sul luogo, trovare magazzini, fornitori sul luogo così che comunque le spedizioni saranno veloci. Mito numero tre è quello che bisogna costruire un general store. Ovviamente non è così, io faccio fare i miei studenti appunto e anche i miei clienti di costruisco store di nicchia. Faccio un esempio, mettiamo che tu dovresti entrare in un negozio, ok? Un negozio fisico, quello che andresti a trovare è una singola cosa, una singola nicchia, ok? Quindi se vai da un gioieiere giustamente trovi gioielli, ok? Se entra un negozio che ha dentro gioielli, tv, prodotti per animali domestici, così così, non ha molto senso, soprattutto nel 2020 in cui comunque il sito diventa piano piano sempre più importante, la gente comunque si deve fidare di te, ok? Quindi andiamo a sfatare questo mito. Il quarto mito da sfatare è quello che le persone pensano che bisogna spendere soldi per capire se un prodotto può andare o meno. Quello che consiglio io e quello che andremo a sfatare adesso è semplicemente il fatto che per capire se un prodotto può andare o meno, prima di iniziare a testarlo, bisogna fare una ricerca di mercato. La gente spende troppo poco tempo nel ricercare un prodotto e pensa più magari a tutto il resto, quindi pensa, anche io dico sempre ai miei studenti comunque di non perdere troppo tempo magari nella costruzione del sito o comunque in cose che vengono dopo. Bisogna spendere tanto tempo nella ricerca del prodotto, ok? Io comunque all'inizio del dropshipping, cioè quando ho iniziato io diciamo, mi facevo anche fino a 4, 5, 6 ore di ricerca prodotto. È molto importante, ok? Mito numero 5. Nessuno compra da te perché sei uno store sconosciuto. Questo non è assolutamente vero. Costruendo appunto, tornando comunque ai punti di prima, costruendo uno store di nicchia, sicuramente dando la migliore esperienza al cliente, questo sicuramente farà che sì che il cliente ti compri comunque. Soprattutto in America. In America funziona che se al cliente piace il prodotto che vede, lo compra, non interessa se è di marca o meno, ok? Quindi quello che nessuno compra da te perché sei uno store sconosciuto non è assolutamente vero. Quante volte vi è capitato, soprattutto al cliente americano, di comprare da siti che non sono conosciuti magari come i marchi grossi? Quindi tenendo uno store in una nicchia specifica, avendo un prodotto specifico, dando la migliore esperienza al cliente, sicuramente possiamo sfatare questo mito. Sesto mito, quello perché la spedizione ci metterà 2-4 settimane. Almeno che tu non spedisca dalla Cina, allora forse in quel caso ci può mettere 2-4 settimane, ma anche adesso dalla Cina c'è un tipo di spedizione molto più veloce che si chiama Yann Express, che ci mette circa, io la uso molto spesso per alcuni prodotti, non da spedire in America perché in America abbiamo gli store con i fornitori appunto sul luogo, e ci mette circa di media 6 giorni, 6 business days, ok? Roba così. Quindi questa storia del ci mette tanto, il dropshipping non funziona, non è vera, andiamo a sfatare questa cosa, appunto come hai detto prima, uno va a cercare i fornitori sul luogo, così che comunque una volta che ti processa l'ordine il fornitore ci metterà circa 24-48 ore, in 3-5 giorni ti consegna al cliente finale, ok? Quindi togliamoci in testa che il dropshipping è la spedizione lunga, perché non è così. Mito numero 7, dropshipping è uno scam. Penso che comunque persone come me abbiano dimostrato il contrario, quindi le persone che dicono che è uno scam è semplicemente perché sono le persone che non hanno messo abbastanza impegno nel business, perché comunque come abbiamo detto non è facile come modello di business, è molto facile da intuire, ok? Ma non è facile soprattutto da eseguire. Quello che possiamo vedere, che dico sempre anche, è che c'erano molte persone, appunto, quelle che dico prima, che non hanno messo abbastanza impegno, che fanno store a caso, sponsorizzano cose a caso e il cliente poi giustamente magari compra da loro e una volta che il prodotto gli arriva, dopo magari appunto 2-4 settimane perché non hanno idea di come ricercare un fornitore, non hanno idea di come cercare un prodotto di qualità, il cliente è arrabbiato perché ovviamente è arrivato dopo tantissimo tempo, il prodotto non è della stessa qualità da come ha visto la sponsorizzazione, quindi appunto il dropshipping non è assolutamente scam, per le persone che dicono il contrario, mi spiace per loro. Mito numero 8, dropshipping è facile. Io lo dico dall'inizio dei tempi, il dropshipping non è facile, è molto facile da intuire, diciamo, appunto come ho detto prima, però ci sono tantissime cose da tenere conto, è un business reale, bisogna fare attenzione a tutti e piccoli dettagli, non bisogna cercare la perfezione, però giustamente se uno non sa quello che fa e finisce comunque ad avere clienti infelici, non avere proprio clienti, ok? Quindi comunque il dropshipping non è facile, lo dico sempre anche le persone che mi scrivono in DM, non è facile, bisogna mettere tanto impegno, bisogna avere tanta pazienza, il successo arriva, però bisogna metterci appunto il giusto quantitivo di energie e spenderci tempo, perché comunque ci sono anche persone che dicono eh no, non lo so, non riesco a farlo, ho provato un prodotto, hai provato un prodotto e gli dici che non sei riuscito nel dropshipping, cioè se vai a vedere comunque i top dropshippers sai quanti prodotti hanno provato, io personalmente ho provato centinaia di prodotti, se non migliaia, quindi è tutta una questione appunto di perseverare costanza, ok? Quindi il dropshipping non è facile, ci sono tante cose da imparare, sicuramente insomma ci sono più pro che contro, perché alla fine comunque una volta che diventi bravo nel dropshipping impari veramente tante cose, impari a costruire un sito, impari a gestire i clienti, impari il marketing, come si sponsorizza un prodotto, impari appunto le mail marketing, impari sms marketing, cioè veramente c'è veramente un sacco da imparare, però appunto non è facile, non ci sono soldi facili, ok? Quindi il dropshipping non è facile. Mito numero 9, il dropshipping è morto. Il dropshipping non è morto, lo sappiamo benissimo, vediamo i risultati, vedono i nostri risultati, vedono i risultati degli altri, comunque continuano a fare un ottimo lavoro. Il dropshipping è morto per le persone che non sanno costruire un sito, che non gliene frega niente del cliente, che non vogliono migliorare proprio il sito dopo che una volta che hanno un prodotto vincente, perché comunque giustamente se uno vuole costruire qualcosa di reale, una volta che hai un prodotto vincente, uno deve anche aggiornare il sito, continuare ad andare avanti, comunque iniziare a creare una vera audience, ok? Quindi per tutte queste persone appunto che non hanno messo abbastanza impegno, il dropshipping era morto anche prima di iniziare, nel senso, quindi sono solo persone appunto, le persone negative che pensano che il dropshipping sia morto. Il dropshipping non è assolutamente morto, non può morire perché non è che è un qualcosa che finisce, ci sarà sempre questo modello di business, magari potranno finire altre cose, ma sicuramente non il dropshipping. Quindi per le persone che dicono che il dropshipping è morto, sappiamo benissimo che non è assolutamente così. Quindi il video è finito, andiamo...